Le critiche non fanno piacere a nessuno, specialmente in un primo momento. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa, così come abbiamo parlato delle quattro differenze tra le critiche costruttive e le critiche distruttive o inutili. Oggi però voglio proporti ben 12 atteggiamenti che ti saranno utili per accogliere nel modo più positivo, costruttivo, funzionale qualunque tipo di critica, anche quelle distruttive ed inutili. Perché se è vero che non tutte le critiche sono utili, è altrettanto vero che quando ci sentiamo criticati emergono noi atteggiamenti poco funzionali che ci impediscono di cogliere anche magari quello che di utile ci potrebbe venire dalle osservazioni dell'altro. Quando percepiamo le osservazioni dell'altro come un attacco, allora reagiamo nei tre modi tipici quando ci sentiamo attaccati. Il primo modo di reagire è quello di difenderci. A volte lo facciamo senza neppure attendere che l'altro abbia finito di parlare. Ci giustifichiamo, diciamo che l'altro non ha capito bene, che noi non ci siamo spiegati bene e questo ci impedisce di cogliere il buono che potrebbe venire dall'osservazione dell'altro. Oppure reagiamo attaccando a nostra volta, criticando, a volte persino offendendo. Ok, puoi anche avere ragione, ma guarda che anche tu, ma cosa mi vuoi venire a insegnare tu che in questo e quest'altro sei anche peggio di me? E così il rischio ha una triste escalation di accuse e controaccuse che lasciano entrambi frustrati e con in mano un pugno di mosche. E comunque quando reagiamo aggressivamente dimostriamo immaturità e insicurezza. Oltre alla difesa e all'attacco, il terzo atteggiamento poco utile è la resa incondizionata e paralizzante. Tavolta diventiamo muti di fronte all'osservazione dell'altro oppure ci colpevolizziamo eccessivamente. Anche questi non sono atteggiamenti funzionali ed utili. Ecco invece 12 atteggiamenti e disposizioni mentali che ci permetteranno di cogliere il meglio da qualunque osservazione. Le prime sei disposizioni mentali ti aiuteranno a lasciare andare quelle critiche inutili, distruttive, aggressive. Le altre invece ti permetteranno di cogliere il meglio da quelle critiche che effettivamente potrebbero aiutarti. Primo, non possiamo piacere a tutti. Nel mondo ci sono quasi 8 miliardi di persone. Possiamo illuderci di piacere a tutti o che quello che facciamo possa andare bene a tutti? Del resto anche noi abbiamo le nostre preferenze. Potremmo pensare che gli altri non debbano averle? Persino chi ha miliardi di fans ha milioni di persone a cui non piace quello che fa. Potrebbe essere diverso per ognuno di noi. Secondo, ricorda che quando qualcuno critica spesso parla di lui, non parla di noi. E sì, pensaci, se un film ad esempio ti piace è perché tocca qualche corda che riguarda te, idem se non ti piace. Certo ci sono film e film, ma resta il fatto che spesso noi non giudichiamo le cose in sé, ma riguardo al valore o al disvalore che hanno per noi. Quindi non prenderla sul personale. Ci sono moltissimi motivi per cui le persone pensano ciò che pensano e dicono ciò che dicono. E spesso queste cose non riguardano noi, ma riguardano loro, le loro esperienze, ciò che hanno vissuto e sentono. Terzo, certe volte le critiche sono proiezioni delle insicurezze di chi le rivolge. A volte fondiamo la nostra autostima sul confronto con gli altri. Ecco che allora chi critica in continuazione può essere che cerchi un modo per sentirsi migliore. Pensaci, chi critica tutto e tutti può essere che abbia una bassa idea di sé e allora criticando gli altri cerca un pochino di innalzarsi. Chi è sereno con se stesso non sta lì a perdere tempo ed energia criticando tutto e tutti. Quarto, chi ti vuole bene non ti critica in modo gratuito e per il solo gusto di farti del male. Chi ti vuole bene non ti critica in continuazione, se lo fa di certo non lo fa con cattiveria. Se ricevi da quella persona continuamente critiche cattive, chiediti se non sia il caso di allontanarla un pochino dalla tua vita o perlomeno di dare meno peso a ciò che dice, a ciò che pensa, perché probabilmente lei non ti vuole così bene. Quinto, se la critica è falsa, perché te la prendi? Se uno mi dicesse, ieri ti ho visto rubare in banca ma io non vado in banca da una settimana e di certo non ci vado per rubare, di certo non mi offenderei, mi farei una risata. Eppure a volte ce la prendiamo anche quando ci vengono fatte osservazioni completamente fasulle. Ma se ritengo che quell'osservazione non abbia alcun senso, perché me la prendo tanto? O magari potrebbe essere che ci arrabbiamo perché in fondo un fondo di verità c'è in quello che l'altro dice e che mi disturba. Beh, in quel caso sarebbe bene ammetterlo con intelligenza e farci un bel esame di coscienza per capire se quell'osservazione, anche se ci sembra completamente infondata, non ha però un fondo di verità in ciò che pensiamo di noi stessi. Se invece davvero quell'osservazione è completamente campata in aria, beh, allora lascia andare, prosegui oltre, non ci pensare. Sesto, questa è la mia preferita, la trovo fantastica e molto liberatoria. Tieni conto che le critiche degli altri spesso sono semplicemente opinioni. E quando le osservazioni sono semplicemente opinioni? Beh, vanno prese come tali, senza darci tanto peso. Basta aprire qualunque social network e vedere tutti i commenti che vengono scritti sotto i post. Molto spesso le persone non scrivono perché hanno una reale competenza, ma semplicemente dicono la loro opinione, spesso campata per aria. A qualcuno non piace come vesti? È la sua opinione, non è qualcosa di oggettivo. Tu la puoi rispettare e lui può rispettare come tu ti vesti. E anche se non la rispetta, l'importante è che piaccia a te come ti vesti. Ricordati, la maggior parte delle critiche che riceviamo e anche di quelle che facciamo non sono oro colato, spesso sono semplicemente opinioni di chi le rivolge. Questi erano sei suggerimenti per lasciare andare le critiche cattive, distruttive ed inutili. Vediamone ora altri sei per accogliere nel modo migliore quelle osservazioni che davvero potrebbero farci crescere. Primo, quando ricevi un'osservazione, come prima cosa, rimani in silenzio. Non dar retta al tuo ego che vuol sempre avere ragione e non accoglierebbe mai nessuna critica. Rimani in silenzio e ascolta con attenzione senza interrompere e se vuoi dire qualcosa fallo soltanto se qualcosa non ti è chiaro. Fuggi la tentazione di giustificarti in qualunque modo, fallo semmai successivamente a ragione veduta. Come prima cosa, cerca soltanto di ascoltare in silenzio, tanto più se la prima tentazione sarebbe quella di mandare a quel paese chi ti sta parlando. Che tu percepisca la sua osservazione come fondata o meno, in un primo momento limitati soltanto ad ascoltare. Secondo, sii grato e ringrazia chi ti ha criticato. Pitagora diceva, se non hai un amico che ti corregga, paga un nemico che ti renda questo servizio. Chiunque ti sta facendo un'osservazione ti sta facendo un grandissimo favore perché attraverso di essa tu potrai crescere e progredire. Tieni anche presente che probabilmente per lui non è stato facile dirti queste cose. Magari come può essere successo a te, lo voleva fare da tempo e chissà per quante volte ha rimandato questo momento un po' perché gli spiaceva, un po' perché gli pesava, un po' perché non gli sembrava mai il momento opportuno. Finalmente l'ha fatto, sii negrato. Forse ha avuto paura di ferirti e di offenderti e per questo ha rimandato, ma alla fine facendo un grande sacrificio si è finalmente deciso a dirti queste cose. Anche soltanto per questo dovresti ringraziarlo. Perché ti sta dimostrando che ti vuole bene, che tiene a te e alla tua crescita. Per questo come prima cosa ogni volta che qualcuno ti fa un'osservazione ringraziarlo sempre. Terzo, accetta di non essere perfetto. Anche questo è molto liberatorio. Nessuno di noi è perfetto. Facciamo cento errori al giorno e non dobbiamo identificarci con quegli errori. Noi siamo molto di più dei nostri errori. Facciamo tanti errori chiunque ed è giusto riconoscerlo, è giusto ammetterli ed è giusto migliorare per diventare sempre versioni migliore di noi stessi. Sullo specchio dovremmo mettere un bel post-it con scritto work in progress, lavori in corso e visto che non siamo perfetti, visto che siamo lavori in corso, benvenga se qualcuno ci dice come migliorare. Dovremmo esserne felici per questo. Quarto, guarda oltre la superficie dell'osservazione. Immagina quella critica come un frutto la cui buccia può essere acida. Tagliala e buttala via e tieni invece la polpa che può essere succosa e saporita. Anche quando non sono espresse nel modo migliore, certe osservazioni possono comunque farci crescere. Magari l'altro ha avuto una giornata pesante e proprio per questo ti ha rivolto quella critica in modo così un po' antipatico. Se nonostante la durezza riuscirai a ringraziare, anche lui si ammorbidirà e sarà più ben disposto nei tuoi confronti come tu nei suoi. Anche nella critica più apparentemente distruttiva e antipatica possiamo trovare qualcosa che ci faccia crescere. Se la troviamo otteniamola e buttiamo via il resto e se invece non c'è proprio nulla di buono buttiamo pure via tutto. Quinto punto, se qualcosa non è chiaro chiedi ulteriori spiegazioni. Eventualmente chiedi al tuo interlocutore anche qualche esempio pratico così potrai capire meglio. Chiedendo spiegazioni dimostrerai grande apertura mentale e se l'altro riuscirà a dartele, ad essere più specifico, la sua osservazione diventerà più concreta e quindi più utile e funzionale. Sesto punto, analizza e valuta con calma ogni osservazione che ricevi. Hai buttato via la buccia se per caso era un po' acida e dura. Adesso è il momento di servirti della polpa e di valutare per bene il feedback che hai ricevuto. Analizza il comportamento che ti viene chiesto di mettere in discussione. Pensa con calma e con grande umiltà agli errori che ti vengono imputati. Chiediti cosa puoi imparare da ciò che ti è stato detto. Insomma, fai un bel esame di coscienza, una bella verifica dell'operato che ti viene chiesto di mettere in discussione e se capisci che davvero puoi migliorare, prendi tu in prima persona la decisione di cambiare. Non perché qualcun altro te l'ha chiesto, ma perché tu hai capito che è giusto farlo e quindi vuoi incamminarti in quella direzione. Spero di averti dato qualche elemento in più per accogliere con serenità le critiche, le osservazioni, i feedback che riceverai, anche quelli apparentemente più distruttivi e inutili. Nel prossimo video ci metteremo invece dall'altra parte della barricata, chiedendoci in quale modo noi possiamo riuscire a dare feedback utili, funzionali e costruttivi agli altri. Se non l'hai ancora fatto, scarica subito il pdf L'arte del perdono che rinnova la tua vita. è un pdf di più di 50 pagine che ti aiuterà a capire come il perdono può essere una grande opportunità per crescere e per rendere più luminosa la tua vita e la vita degli altri. Segui il link in descrizione oppure nel primo commento.